ero lontano da casa sotto l'incantesimo dell'oceano orientale al crepuscolo lo sentivo frangersi sulle rocce e sapevo che si trovava appena al di là della collina dove i salici curvi fremevano contro il cielo limpido e le prime stelle della sera poiché i miei padri mi avevano convocato nell'antica città costiera mi inoltrai nella neve appena caduta e imboccai la strada che dirigeva solitaria verso il puntolino di Aldebaran lassù tra gli alberi e il vecchio borgo che non avevo mai visto ma spesso sognato era Yuletide la ricorrenza che gli uomini chiamano Natale pur sapendo in cuor loro che è più antica di Bethlehem e Babilonia più di Menfi e della stessa umanità era Yuletide e finalmente giungevo nell'antica città di mare dove la mia gente aveva vissuto e celebrato il rito anche nei tempi andati quando era proibito farlo i padri avevano raccomandato ai figli di osservare la ricorrenza almeno una volta ogni secolo in modo da non dimenticare gli antichi segreti perché il mio era un popolo già antico quando questa terra era stata colonizzata 300 anni prima era gente strana arrivata di soppiatto come un oscuro popolo del meridione da terre di sogno ricche di giardini e di frutteti e prima di imparare la lingua dei pescatori dagli occhi azzurri ne parlava un'altra ora sparsi per la terra i miei concittadini condividevano soltanto i rituali e i misteri che nessun vivo può comprendere quella sera fui l'unico ad arrivare nella vecchia città di pescatori come prescrive la tradizione poiché solo i poveri e i solitari ricordano Kingsport mi apparve oltre la cima della collina distesa nel gelo dell'imbrunira la nevosa Kingsport dagli antichi campanili a banderuole travi e vecchi comignoli moli e piccoli ponti salici e cimiteri e infiniti labirinti di stradine ripide e tortuose al centro delle quali si ergeva la chiesa come una corona che nemmeno il tempo può toccare e mucchi di case coloniali che guardavano in tutte le direzioni in più strati e livelli come le costruzioni disordinate di un bambino l'antichità volteggiava con ali grigie sugli abbaini sbiancati dall'inverno e sui tetti a spiovente una a una le finestre dai piccoli vetri e altre luci si accendevano nel gelido crepuscolo per specchiare Orione e le antiche stelle il mare sversava moli consunti il mare segreto e memore dal quale la mia gente era venuta un tempo verso la sommità della strada un poco alato sorgeva una seconda vetta che era il cimitero nuda e spazzata dal vento era costellata di lapidi nere che affondavano nella neve come unghie decomposte di un gigantesco cadavere la strada era perfettamente solitaria senza impronte e a volte mi pareva di udire il terribile cigolio di una forca scossa dal vento nel 1692 quattro miei antenati erano stati impiccati per stregoneria ma non sapevo dove percorrendo la strada che girava intorno alla collina e di qui scendeva verso il mare cercai di cogliere gli allegri rumori di un villaggio di sera ma non sentii nulla pensai al periodo particolare e mi dissi che probabilmente quei vecchi puritani avevano tradizioni natalizie diverse dalle mie che magari tutto si riduceva a una serie di preghiere davanti al focolare da quel momento smisi di cercare tracce di divertimenti o di altri pellegrini ma continuai per la mia strada davanti alle case fiocamente illuminate e alle mura di pietra dove le insegne dei vecchi negozi e le taverne sul mare cicolavano nella brezza assalata mentre i grotteschi battacchi delle porte in mezzo ai colonnati scintillavano dai fianchi di stradine deserte non pavimentate riflettendo la scarsa luce che pioveva dalle finestre coperte da tende avevo visto qualche pianta della città e sapevo dove trovare la casa della mia famiglia mi era stato detto che sarei stato riconosciuto e accolto volentieri perché le tradizioni dei villaggi vivono a lungo così mi affrettai lungo back street e cycle cart attraverso la neve fresca che copriva l'unica arteria veramente pavimentata della città e di qui verso green lane nel punto in cui sbocca dietro market house le vecchie carte erano ancora efficaci ma ad arkham dovevano avermi mentito quando avevano detto che qui c'era il tram perché sulla mia testa non vidi fili di sorta e comunque la neve avrebbe nascosto i binari ero contento di esserci arrivato a piedi perché la vista del villaggio bianco dalla collina era stata bellissima e adesso ero impaziente di bussare alla porta dei miei era la settima casa sulla sinistra in green lane con un vecchio tetto spiovente e il piano superiore che sporgeva visibilmente il tutto costruito prima del 1650 quando mi avvicinai vidi che l'interno era illuminato e le finestre dai vetri all'osanga dimostravano che la casa era conservata nel rispetto della sua antichità la parte superiore sporgeva sulla strada coperta d'erba e quasi toccava l'abbaino dell'edificio di fronte mi trovavo in una specie di galleria formata dalle due abitazioni con la bassa soglia di pietra completamente priva di neve non c'era marciapiede ma le porte delle case erano in genere piuttosto alte e si raggiungevano da una doppia rampa di scale con ringhiera di ferro era una scena piuttosto insolita e siccome ero nuovo del New England non avevo mai visto niente di simile la apprezzavo ma mi sentivo meglio se avessi visto qualche impronta nella neve e gente nelle strade e qualche finestra senza le tende chiuse quando usai l'antico batacchio ero quasi spaventato una sorta di tremore si era impossessato di me la stranezza della mia gente la solitudine della sera il profondo silenzio dell'antica città dai bizzarri costumi tutto contribuiva quando mi aprirono trasalì addirittura perché prima che la porta di casa ci golasse non avevo sentito rumore di passi ma la paura non durò a lungo il vecchio in vestaglia e pantofole che stava sulla soglia aveva una faccia del tutto banale e rassicurante e anche se a gesti mi fece capire di essere sordo con uno stilo e una tavoletta di cera scrisse un'antica formula di benvenuto mi introdusse in una stanza bassa illuminata dalle candele con travi massicce ben visibili e mobili neri e frugali del diciassettesimo secolo in un ambiente del genere il passato era vivo perché non c'era un solo particolare fuori posto vedi un immenso cammino e un filatoio al quale nonostante il giorno festivo si adoperava una donna curva rivolta dalla mia parte lo stai indossava uno scialle abbondante e una cuffia e filava in silenzio l'ambiente era oppresso da un vago sentore di umidità e mi meravigliai che il fuoco non fosse acceso la panca scurita che si trovava alla mia sinistra di fronte a una serie di finestre con le tende chiuse sembrava occupata ma non potevo esserne sicuro non tutto quello che vedevo mi piaceva e provai di nuovo un senso di paura la mia inquietudine fu rafforzata da ciò che prima mi aveva calmato perché più guardavo la faccia banale del vecchio più mi sentivo allarmato da quella stessa banalità gli occhi non si muovevano affatto e la pelle somigliava a cera finché fui sicuro che non si trattasse affatto di una faccia ma di una diabolica mascheratura tuttavia le mani flaccide e curiosamente guantate scrissero parole rassicuranti sulla tavoletta dicendomi che dovevo aspettare un po' prima di essere condotto al luogo della celebrazione il vecchio mi indicò una sedia un tavolo e un mucchio di libri poi uscì dalla stanza io sedetti vidi che i libri erano vecchi e ammuffiti dall'umidità e che i titoli comprendevano l'assurdo Marvels of Science del vecchio Morrister il terribile Saducismus Triumfatus di Joseph Glenville pubblicato nel 1681 la Demolo Latreia di Remigio stampata nel 1595 a Lione e peggio di tutti l'irriferibile Necronomicon dell'arabo pazzo Abdul Alhazred nella versione latina di Olaus Vormius a suo tempo messa all'indice non avevo mai visto quest'ultimo volume ma ne avevo sentito cose mostruose nessuno mi rivolgeva la parola ma sentivo il cigolio delle insegne al vento un debole fruscio del filatoio che la donna con la cuffia continuava instancabile che la donna con la cuffia continuava instancabile ad azionare l'ambiente, la gente, i libri erano inquietanti o addirittura morbosi ma siccome l'antica tradizione dei miei padri mi aveva chiamato a una strana celebrazione decisi che dovevo aspettarmi cose bizzarre cercai di leggere e presto fui assorbito da qualcosa che trovai nel maledetto Necronomicon un concetto o una leggenda troppo orribile per essere sopportata dalla mente senza perder la ragione tantomeno mi piacque ciò che leggevo quando mi sembrò di sentire chiudersi una delle finestre di fronte alla panca come se qualcuno l'avesse aperta di soppiatto e prima del rumore alla finestra c'era stato un fruscio che non mi era sembrato quello del filatoio ma non voleva dire molto la vecchia lavorava più non posso e a questo c'era da aggiungere il suono dell'orologio che aveva battuto le ore proprio in quel momento dopo l'episodio della finestra non ebbi più l'impressione che la panca fosse occupata ed ero immerso nella lettura quando il vecchio tornò con un antico costume che gli stava largo e un paio di stivali ai piedi sedette sulla panca e io non riuscì a vederlo bene quella che seguì fu un'attesa snervante e il libro blasfemo che leggevo la rese peggiore quando suonarono le undici il vecchio si alzò scivolò verso un gran baule scolpito nell'angolo e prese due mantelli con il cappuccio uno lo indossò e l'altro lo avvolse intorno alla figura della donna che aveva smesso il suo monotono filare poi si diressero verso la porta la vecchia con un passo strisciante la zoppa il suo compagno con un cenno verso di me aveva abbassato il cappuccio sulla faccia immobile o maschera che fosse e si era impossessato del libro che stavo leggendo ci avventurammo nel labirinto di stradine della città senza il conforto della luna e nel momento in cui le luci delle case si spegnevano ad una ad una la stella del cane guidava orribilmente la folla di incappucciati che si riversava da ogni porta formando una mostruosa processione che si snodava fra le insegne cicolante e gli abbainianti diruviani i tetti coperti di paglia e le finestre con i vetri a losanga poi la folla si arrampicò sull'erte dove le case più antiche stavano ammucchiate una sull'altra e andavano in rovina insieme di qui il corteo proseguiva nei cortili e tra piccoli camposanti dove i lanternoni che oscillavano al vento formavano inedite costellazioni ubriache segui le mie guide nella folla silenziosa spinto da gomiti molli e compresso fra petti e stomaci che davano l'impressione di essere fatti di gelatina non riuscivo a distinguere una sola faccia non sentivo una parola la fantastica colonna scivolava su per il colle e mi resi conto che i pellegrini di tutte le vie convergevano verso un nodo di vicoli inestricabili in cima a un'altura al centro della città lì stava appollaiata una gran chiesa bianca la stessa che avevo visto dal punto più alto della strada quando avevo ammirato Kingsport al crepuscolo perché per un attimo ne era parso che Aldebaran stesse in equilibrio sul campanile diafano intorno alla chiesa c'era uno spiazzo piuttosto ampio in parte camposanto e in parte piazza pavimentata a metà dove il vento aveva spazzato quasi completamente la neve e casi dai tetti a punta con gli abbaini sporgenti e l'aspetto spiacevolmente arcaico sorgevano tutto intorno sulle tombe danzavano fuochi fatui che rivelavano scorci grotteschi senza gettare ombra il che era indubbiamente strano oltre il camposanto dove ormai non c'erano più case si poteva vedere il porto al di là del colle e le stelle che si riflettevano nell'acqua mentre la città al buio era invisibile di tanto in tanto un lanternone oscillava diabolico su per un vicolo a serpentina pronto a congiungersi alla folla che senza parlare aveva incominciato a riversarsi nella chiesa aspettai finché la gente fu tutta filtrata nell'edificio e anche gli ultimi ritardatari si furono accodati il vecchio mi tirava per la manica ma ero deciso a entrare per ultimo finalmente mi incamminai preceduto dall'uomo sinistro e dalla vecchia che filava nell'attraversare la soglia del tempio stracolmo e avvolto nell'oscurità mi girai a guardare il mondo esterno illuminato dalla fosforescenza del camposanto che si rifletteva sulla sommità della collina nel far questo era brividi perché sebbene il vento non avesse lasciato molta neve alcune chiazze vicino alla porta restavano fu un attimo fuggente ma i miei occhi stanchi ebbero l'impressione che sulla neve non ci fosse una sola orma nemmeno le mie la chiesa era poco illuminata perché la maggior parte dei pellegrini con le lanterne erano spariti si erano incamminati lungo la navata tra i banchi alti e candidi fino a raggiungere le botole che mettevano alle cripte spalancate sinistramente sotto il pulpito e ora si calavano da basso mi segui passivamente sui gradini che immettevano nei sotterranei umidi e soffocanti la coda di quella colonna sinuosa di marciatori nella notte mi sembrò orribile e ora che si calava nella cripta più orribile ancora notai che nel pavimento della tomba si apriva un'apertura ulteriore dove la processione si stava inabissando in un attimo ci trovammo tutti a scendere una scala sinistra erozzamente lavorata una stretta scala a chiocciola che odorava di umidità e di qualcosa di strano che scendeva interminabilmente nelle viscere della terra fra monotone pareti di pietre e calcestruzzo in frantumi fu una discesa silenziosa paurosa e dopo un terribile intervallo osservai che gradini e pareti cambiavano aspetto adesso mi sembravano ricavati direttamente dalla roccia quello che più mi turbava era il silenzio e la mancanza di eco in cui procedeva la miriade di pellegrini e dopo altre interminabili discese mi accorsi che nella roccia si aprivano corridoi laterali simili a tane agnoti recessi di tenebra portavano fino al pozzo in cui ci trovavamo noi avvolto nel buio e nel mistero ben presto i corridoi diventarono fin troppo numerosi come empie catacombe che nascondessero una minaccia indefinibile l'otore pungente di decomposizione si era fatto insopportabile sapevo che dovevamo esserci calati attraverso la montagna in un ignoto recesso della regione di kingsport e rabbrividii al pensiero che una città potesse essere così antica e sottesa da una vera e propria ragnatela di malefizi poi vidi una debole chiazza di luce e sentii lo sciaburdio insidioso di onde senza sole rabbrividii di nuovo perché non mi piacevano affatto le cose che la notte ci aveva rivelato e avrei preferito che i padri non mi avessero invitato a partecipare a quel rito immemore man mano che i gradini e il corridoio si facevano più larghi sentii un altro suono era il debole beffardolamento di un piccolo flauto e contemporaneamente si spalancò ai miei occhi la sconfinata visione del mondo sotterraneo una vasta spiaggia biancastra illuminata da un'imponente colonna di fuoco malato verdognolo e lambite da un gran fiume oleoso che proveniva da chissà quali abissi per sfociare nei recessi più bui dell'antichissimo oceano con il fiato che mi mancava guardai la scena mitica e sacrilaga insieme giganteschi funghi velenosi fuoco livido la folla degli incappucciati che formava un semicerchio intorno alla colonna sfavillante era il rito di iule più antico dell'uomo e destinato a sopravvivergli l'antichissimo rito del solstizio e della promessa di una nuova primavera dopo la neve il rito del fuoco e del rinverdimento della luce e della musica nella caverna dell'erebo vidi gli incappucciati compiere le funzioni adorare la colonna di fuoco gettare nell'acqua manciate di vegetazione vischiosa che rifletteva l'alone verdastro vidi tutto questo e qualcosa di amorfo che stava acquattato a distanza di sicurezza dalla fonte di luce soffiando instancabilmente nel flauto e mentre la creatura suonava mi sembrò di udire rumori più odiosi come un frullardali nelle tenebre maleodoranti dove non riuscivo a vedere ma ciò che mi spaventava di più era la colonna fiammeggiante che sprizzava come l'eruzione di un vulcano da profondità inimmaginabili e non proiettava ombre ma copriva il fondo umido della caverna di un'orribile patina verdastra era un fuoco che non dava calore anzi trasmetteva il gelo della morte e della corruzione l'uomo che mi aveva fatto da guida strisciò verso un punto che si trovava alle spalle della fiamma e si rivolse all'assemblea con una serie di rigidi gesti rituali a tratti la folla faceva atto di umiltà prostrandosi specialmente quando il vecchio alzava sulla testa l'aborrito necronomico che aveva preso con sé anch'io mi prostrai con gli altri perché gli iscritti lasciati dai miei padri mi avevano indotto a partecipare al rituale poi il vecchio fece un segnale all'autista nel buio e questi cambia immediatamente registro provocando qualcosa di tanto orribile quanto inatteso io stavo per cadere a terra travolto da un terrore che non era di questo né dell'altro mondo ma dei folli gorghi interstellari dalla tenebra che si stendeva oltre l'alone mefitico della fiamma verde dal tartaro che il fiume solcava non visto il naturale avanzò al ritmo del flauto un'orga di ibridi alati docili addestrati docili addestrati che l'occhio di un uomo sano non poteva del tutto recepire nella mente del tutto trattenere non erano corvi talpe poiane formiche non erano pippistrelli vampiro o esseri umani decomposti non del tutto almeno erano qualcosa che non posso e non devo ricordare avanzavano zoppicando aiutandosi in parte con i piedi palmati e in parte con le ali membranose e quando raggiunsero la folla dei celebranti le figure incappucciate li afferrarono per cavalcarli allontanandosi ad uno ad uno verso le sponde del fiume buio dentro pozzi e gallerie del panico dove sorgenti velenose alimentavano speventevoli e nascoste cascate la vecchia che filava si era allontanata con la folla e l'uomo era rimasto solo perché mi ero rifiutato di prendere un animale e cavalcarlo come gli altri barcollando vidi che l'amorfo suonatore di flauto non si vedeva più ma che due bestie stavano aspettando pazientemente poiché esitavo il vecchio prese lo stilo e la tavoletta e scrisse di essere l'unico rappresentante dei miei padri i quali avevano stabilito che il rito di Iule si celebrasse in questo antico luogo quanto a me era scritto che sarai tornato i misteri fondamentali non erano stati ancora celebrati scriveva con una grafia arcaica e vedendo che ancora esitavo estrasse dalla tunica un anello col sigillo e un orologio tutti e due con l'insegna della mia famiglia per dimostrare che ciò che aveva detto era vero era tuttavia una prova orribile perché sapevo dai vecchi documenti che quell'orologio era stato sepolto con un mio trisavolo nel 1698 finalmente il vecchio tirò indietro il cappuccio e si indicò il volto per sottolineare una qualche rassomiglianza dovuta alla parentela e ora brividii perché ero certo che la faccia non fosse altro che una maschera di cera gli animali alati grattavano i licheni con le zampe inquieti e mi accorsi che ormai anche il vecchio lo era quando una delle creature fece per allontanarsi la mia guida cercò di fermarla e il brusco movimento spostò la maschera di cera da quella che avrebbe dovuto essere la sua testa poi siccome la bestia d'incubo si frapponeva fra me e la scala da cui eravamo venuti mi tuffai senza più esitare nel fiume sotterraneo che mi avrebbe condotto alle glotte marine della baia preferii buttarmi in quel fiotto di riquami della terra sì piuttosto che rischiare di attirarmi addosso con un urlo di terrore delle gioni spaventose che si nascondevano nel labirinto all'ospedale mi dissero che ero stato trovato nel porto di Kingsport all'alba semi congelato e aggrappato al palo che il destino aveva mandato a salvarmi dissero che la sera prima avevo preso la strada sbagliata e mi ero diretto all'altro versante della collina quello che dà su Orange Point erano le mie impronte nella neve a rivelarlo non dissi niente perché niente corrispondeva alla mia esperienza e l'ampia finestra davanti a me mostrava un mare di tetti in cui solo uno su cinque era antico e dalla strada saliva il rumore dei tram e delle auto insisterono che questa era Kingsport e certo non potevo negarlo quando mi dissero che l'ospedale sorgeva vicino alla vecchia chiesa su Central Hill mi abbandonai al delirio e mi mandarono al St. Mary's Hospital di Arkham dove mi avrebbero curato meglio l'ambiente mi piacque perché i medici erano di mente aperta e per loro intercessione riuscì ad ottenere una copia del discutibile neocronomicon di Abdul Alhazred custodita gelosamente nella biblioteca della Miss Catonic University i medici parlavano di psicosi e convennero che la cosa migliore era che mi sbarazzassi di qualunque ossessione lessi una volta ancora quell'odioso capitolo e tremai da capo a piedi perché in qualche modo io lo conoscevo già lo avevo visto in un'altra occasione le impronte dicano quel che vogliono quanto al luogo in cui era successo meglio dimenticarlo nessuno nelle ore diurne avrebbe potuto aiutarmi a ricostruire dove ero stato ma i miei sogni sono pieni di terrore e ci sono brani del libro che non oso citare nemmeno qui posso riferire un sol paragrafo tradotto alla meglio dal basso latino le profondità ultime della terra scriveva l'aravo passo non sono per l'occhio che vede poiché abbondano di straordinarie e terribili meraviglie maledetto il terreno dove morti pensieri riprendono a fluire in corpi estranei maledetta la mente che non era chiusa in una testa d'uomo disse saggiamente ibn shakabao che è felice la tomba dove nessuno stregone ha giaciuto felice di notte la città in cui i negromanti si sono ridotti in cenere è antica la tradizione secondo cui l'anima dei corrotti dal demonio non vuole distaccarsi dalla creta del corpo ma in grassa estruisce i verbi stessi che glielo divorano finché dalla corruzione nasce orri da vita e le bestie abominevoli che si nutrono di carogne si moltiplicano per vessare la terra e per diffondervi piaghe mostruose grandi caverne vengono scavate dove dovrebbero bastare i pori della terra e cose che dovrebbero strisciare hanno imparato a reggersi in piedi e per farlo che vengono che vengono il pote nel senso e per l'anima e per l'anima e per l'anima e per l'anima Grazie a tutti.